Tutto, tutto, tutto. Poi ci sono problemi di altro tipo, che sono problemi dovuti magari al non utilizzo delle componenti corrette, come per esempio i multi unit abatment, che sono quegli strumenti, quei pezzetti che vengono utilizzati, quegli snodi, per unire all'impianto la protesi. Questo ve lo potete passare, questo è lo snodo che vedrete ha praticamente due fori, ci vanno due viti lì. E questa è la chiave del mantenimento, perché io devo prevedere che se ci saranno problemi in futuro io devo poter svitare la ruota dalla macchina. Non posso fissare, incollare, saldare la ruota alla macchina, perché se non metto in conto che potrebbero esserci problemi, potrei poi restare dentro una spirale dalla quale non esco più fuori. Devo spaccare tutto il lavoro per toglierlo. Quindi la costruzione dei lavori deve essere, deve contemplare l'utilizzo di vie d'uscita. Ok, vie d'uscita in caso di emergenza. C'ho una vite qua e una vite qua. Questa mi unisce questa, questa mi unisce questo all'impianto. Quindi c'ho due porte d'uscita. Se ho problemi sulla protesi, ma non qua, svito solo la protesi e cambio le gomme. Se invece devo cambiare il cerchione, svito questa vite. I bulloni si possono spanare. Supponiamo che c'è un paziente che non riesce proprio a pulire la bocca, ogni quanto dovrò svitare le ruote? Spesso, ogni 4 mesi ha il protocollo. Vai in centro assistenza, si svita la protesi e si fa la pulizia professionale sotto. Però dopo 12 volte che svito, questa si potrebbe spanare. La sostituisco. 30 euro si sostituisce la vite. Se si spana questa, ok, ma è difficile che io ogni volta devo svitare il cerchione. Cambio la gomma, non cambio il cerchio. Ci possono essere dei macro problemi che possono portare, per esempio, un pezzo difettoso, questo che si allenta. Ok, lo devo sostituire. Perché se sono comunque parti meccaniche, possono avere dei difetti le parti meccaniche. Se c'è, devo avere la vite per poterlo svitare.